Così come la risposta del Ministero è apparsa chiara, ha confermato i nostri dubbi e quelli della consigliera Barbara Stella che nell'interpellanza ha sollevato la problematica. Nonostante il cambio del tratto e quindi di denominazione, questo non comporta l'annullamento dei dati storici, ovvero dei dati che hanno preceduto nei cinque anni precedenti e hanno rilevato una scarsità della qualità delle acque. Gli ultimi rilievi non garantiscono però che nell'intera stagione balneare si siano messi in campo dei provvedimenti e questo è compito della Regione, quindi non c'è nessun tipo di allarmismo ma noi ci preoccupiamo della salute dei cittadini che è una delle priorità di tutti noi. Sicuramente deve intervenire la Regione innanzitutto dando seguito alla risposta che ci ha dato il Ministero della Salute e quindi modificando la delibera di giunta. In questo modo ponendo il divieto permanente deve mettere in campo tutte le azioni volte a ripristinare una qualità delle acque per lo meno sufficiente, ripeto, solo ed esclusivamente a tutela della salute pubblica. Abbiamo visto che il sindaco si è attivato per fare i primi rilievi, noi vogliamo sottolineare un altro aspetto. Le opere che sono state fatte nel porto dovevano servire a far migliorare la qualità delle acque. Le analisi ci dicono che evidentemente non c'è tutto questo miglioramento e quindi vogliamo che si indaghi ancora più a fondo valutando la possibilità che ci siano altri sversamenti non soltanto sull'asta fluviale ma anche sulla riviera perché ci sembra strano che siano sempre quei due tratti ad essere interessati, tratti nei quali nel passato c'erano due pompe di sollevamento che sono state superate dal nuovo impianto, dal nuovo collettore, però crediamo che dare un'occhiata più precisa in quei punti probabilmente potrebbe anche riservare delle sorprese. Quindi invitiamo il sindaco a valutare anche questa possibilità.